Dovamo, dovamo Ora è meglio No, ti sento bad, devo alzare da qualche via perché sei la cosa più bassa del mondo Sai che fai? Prova ad alzare il volume alto dal microfono, ho fatto il gioco Ok, e non riesci ad alzare il microfono da qualche altra parte, magari dal pc proprio in sé per sé? Se vado a toccare il pc, adesso proviamo Se vado a toccare il pc, l'audio di gioco per esempio, per esempio quello di disco, non parlo più rapidamente Ti sento battere giù, sei proprio basso Ragazzi, ma che ci facciamo qua a quest'ora? Che ore sono quasi le 11 Buonasera E poi sto facendo buona domenica perché sono confusa ancora, no? Buon lunedì E buonasera, bella Gaetano, buonasera Ciao Fabio Carica per una bella win, sì Fabio, ci proviamo Ciao Manuele, grazie per il like, ciao Stai David, grazie mille per il like ragazzi Sì, come state? Che avete fatto? Avevo pompiato la bambuzza, non va pure la Ecco, vedi questi ti sento forti, capito? A te ti sento basso proprio Adesso la fai meglio? Oh minchia, ora ti sento come... abbassa tutto Andrea Abbasso il microfono ti prego Ti siete entrati di gioco No, non va bene, lo devi abbassare No, mi sento nego, sento nego Eh, ora non lo sento Ora di me, non lo sento Parla, parla Così Ok, ok Andrea, perfetto Forse siamo arrivati al dunque Andrea, te lo giuro Eh, io a te ti sento basta Adesso devo alzare io Eh, sì sì, devi alzare tu Ragazzi, buonasera Ciao Manuele, come va? Bello, Rosario Io ho appena finito di mangiare la pizza poco fa Ho detto, sai che... Ho proprio voglia di giocare Volevo giocare con i sostenitori In realtà avrei fatto pure una privata Ma non so se ci arriviamo a fare una privata Farebbe piacere Ciao Ciro, buonasera Qualcuno c'ha qualche problema Eh, no, presenta lego Devi abbassare Andrea Bel movement Il mio? Grande Dai, eh Allora ragazzi, io sto usando praticamente... No, devi abbassare l'audio Andrea Per forza perché senta lego Non capito, dobbiamo risolverla sta cosa Perchè qui li pingano da? No, contro non andiamo Andiamo contro se è possibile Mamma mia Io per l'arancia una termite, sai che... Mamma mia Mamma mia che gli stava a fa' questo Peccato Qualcuno ha qualche problema In che senso? Un sacco di persone hanno problemi ragazzi Comunque, se non mettete Martina online Questi giorni è perché non sta molto bene Quindi si sta riposando questi due giorni Penso anche domani Anzi, le facciamo riposare per forza Contratto completato e pagamento attenzuale Dov'era? Eh... Money for the Loggi Andrea mi senti? Il tapposto? Sì, ti sento Ok, il tapposto Tu mi senti adesso? Sì, ti sento Dopo riproviamo con le volte modifiche Cerca di coprire le tue tracce, sei la preda di un team nemico C'è gente raga? Mamma mia, ma come ha fatto a salire e poi scendere? Guardate che trick che mi ha fatto Fa fortissimo Bravissimo, complimenti veramente State bene? No, io non sto bene Tu? Ciao Nico Francesca, buonasera Vorrei un po' di movement fresco di giornata Certo Andrea l'hai visto? E' tu Andrea Te lo giuro è tuo te lo fai Lo spacchi Lo fai a polpette Andrea se non... Guarda No Andrea sei tu Superni sei tu Andrea ce l'hai di fronte un nemico Come non sei tu? Sei tu sei tu Guarda se lo fai Andrea Andrea aiuto No sono due Cazzo roba Ragazzi se non sentite Andrea è perché Problemi audio Andre è già ubriaco Andrea ragazzi ha problemi audio epici Tipo come dal macellaio Io sono da grande Minchia ti invidio che lì veramente Ma questi come fanno ad avere il Lodi? Io non ce l'ho sto Lodi Dove l'hanno preso? Marian, no non mi sento Ma perché non comprano il loadout questi parmigiani? Dai I parmigiani chiede Un'abblingo attivo Noà Era una granata Facciamo solo loadout il mortatto Eh ma i coldi non ce li danno si so Mettiamoci qui oh ciccio stai calmo che ti ha detto di vera che ce l'ho mutati no no ma sono italiani facciamolo non c'era vero con te ho detto facciamo un loadout se vuoi giocare giochiamo se vuoi giocare giochiamo raga io provo a andare da ottima chemical no no andrea non è mutato ragazzi andrei impossibilitato nella comunicazione c'è andrea oli buonasera potete tornare a respirare membro della squadra in rietro devo andare dove c'è l'impasto che c'è l'ho t ho bisogno di voi merda di che ragazzi questo ha detto di tutti i colori ha detto tipo verde azzurro bianco e nero ve lo giuro regano scherzo no way ragazzi mi dissocio mi sto dissociando fortissimo ma che mi siete bello raga la nikita è fortissima comunque fortissima raga la nikita illegale oh mio dio voglio la nikita no ragazzi fatevi la nikita ma l'avete visto mamma mia no 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 la nikita per me è un mix tra la blixen e l'arma guerra ciao clavio oggi ho mangiato tutto il giorno raga andiamo chemical per favore da dove stanno andrea e rinforzi solo in arrivo facendo una passeggiata ma la michele che hai presa ripresa da terra no 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 occhi aperti la finestra di ritorno a sapere e non c'è non c'è come è morto questo per quando è scarso io salgo io ti seguo a me è nativo a uno la pato bravissimo mi piace mi piace mi piace mi piace mi piace che c'è legami così mi piace ciao pito allora non penso vito perché sono arrivando altri ragazzi magari più tardi si la cassa muni a voi non è sorpresa non raga uno aveva vero tre palle dai so fare animati e su bravo bravo aspetta che non c'è andrea era tutto nel tuo audio comunque non potete capire quanto è importante l'audio su questo gioco infatti andrea ti consiglio di sistemare il prima possibile perché è troppo fondamentale l'audio qui magari ti faccio parlare con un tecnico un qualcosa però io te lo consiglio se no proprio non riesci ciao marco grazie per il like bella tarlen luis io ti voglio sempre bene ciao filippo buonasera ciao mattia perché se alzo così sentire così ma tu cosa alzi perché sentire non è normale perché vado siccome più di così il microfono no secondo me c'è qualcosa che non va dal pc non so più cosa toccare c'è qualcosa che non ancora adesso sento l'eco di abbassare la parla mi sento audio no sento pochissimo mi metto un bel pezzo tecno o luiz lo sai che sono tornata ad usare il cecchino come stai ciao giuseppe grazie per il like ciao giovanni mi sono pure slocata un po il polso raga ma c'era pure adriano a che fine ha fatto adriano capire martina non sta bene di salute io uso il carro sto usando mi sono fatto un pezzettaggio finalmente ciao enrico benvenuto allora francesca buonasera noi siamo in tre non so per quale motivo però va bene così enrico di dove sei dicci un po anzi no da quanto giochi vi aiuto ragazzi non mi preoccupate mamma mia quanta gente ragazzi aiuto aiuto io sono l'unica facebook gg qui dentro giovanni mi hai fatto apposta dillo per far partire il party si gaetano ma fa meno danno questo periodo quindi io lo sconsiglio io sono amante io sono amante dello twist proprio dello twist per me vita ok è il cecchino però però ora non fa danno grazie ragazzi per le 150 stelle partito il party siamo 3 contro 4 tanto siamo forti e a i i Grazie a tutti. No, I've trotzdem. No, bro, my bro, what happened? guarda con l'elicottero il fenomeno da tende a dire quasi da da tende sta arrivando un team da tende autonomia UAV esaurita, rientro alla base vincenzo buonasera ciao Ale come va? potremmo pensarti e completiamo questa party per minuti arrivano Andre bravissimo noi portiamo in prima linea andarci dentro non 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 attenti mai sto ancora capendo un po' come funziona il car in alcune cose grazie luiz per le 200 buongiorno buonanotte secondo me buon pomeriggio la cosa giusta sopra bro non lo vede non lo vede ragazzi non lo vede mannaggia la miseria qui bro qui bro mamma mia non posso credere che questo non lo vede ma mannaggia ma gli fosse entrato un colpo di quello che gli ho dato allora c'è Quentin dobbiamo andare da lui vediamo se mi ha invitato Filippo secondo me quello che deve andare a rubare sei tu bella Cristian buonasera tu vedi Quentin online? non so se tu ce l'hai come amico io non lo vedo online in che senso che combino? ah per la giocata? si smiro no stai imparando a usarlo ancora lo Swiss nel carro come va Cristian tutto bene? Gaetano ma la sub come è possibile? me lo spieghi allora ho mia regia delle terre desolate ma io non capisco Vincenzo ma perché prendi per il culo Melania poverina che t'ha fatto? ragazzi bella Quentin ciao ciao ragazzi oh Quentin dimmi quando sei online che ti invito ok? bella ragazzi sono in live bella ragazzi bella ragazzi ah Cristian così così dai c'è posto e niente in ordine preparate l'attrezzatura marcamoco ma chi è che ti fa paura? ragazzi arrivo ah 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 Ma Gaetano, ma hai fatto la sub Mi va malissimo la connessione Quentin, provo a fare una cosa Provare via il modem per 10 secondi E fammi sapere Ma come se me l'ha... Tttv, attenzione Basta scherzare Inizia la vera battaglia Guarda che Tttv ormai è uno stile di vita Adesso mi faccio anche io Tttv Già fatto ma niente Ragazzi diamo control Control e fuciamo tutte cose Ovvio Aspetta C'è un team, è chiaro che ha fatto il tetto Iscriviti Sono di un'altra Dove è un'altra Dove è un'altra Lo chocco Di io Ma che cazzo ma c'è altro sto qua? Minchia Ma qua c'è tizzi uno dai ma le ho tenete pate Bravi Ma ragazzi sono due team qui, state attenti Ah bello Ma qual è il tu ID Gaetano? Comunque grazie per la sub eh Grazie per aver fatto la sub Ragazzi vado un attimo tende Sì C'è una tende Questa è una tenda Ma che stai salti? Ciao Ciao lì no Bella mattia Grande Andrea Da quanto tempo Vincenzo Mi spiace Quentin Fammi sapere Questa è una tenda Questa è una tenda Questa è una tenda C'è Proprio in mezzo sto capito? In mezzo sto C'è una tenda 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 Vabbè, volevo prendere i soldi Sono lì Oddio Salvatore Sarà un problema di memoria O probabilmente il tuo pc o play Non ce la fa Andiamo contro Tutti insieme Non mi fate pusha da sola Ciao Francesco Cusimano Ragazzi siete? Siamo dietro di te Un gecchino da nave Sì, è vero Ultimo sotto Arrivando un nemico No, torno io bro Palazzino piccolo Palazzino piccolo No, dietro di me Non lo ripunto Sì, vabbè, minchia Per una kill che faccio Porta duda Sì, vabbè Sì, vabbè Dai, esci Ma vai a Mona, vai Sono te, fraga Sotto Mi ha fatto culo nave Vabbè, ma sì Non ce la lancia più nessuno Arrivo Raga, uno sotto Uno sotto Giù la pusha Uno arriva da fuori Disturbatore nemico Individuato Nella vostra area Dove Per tempo A c'è l'engine Quello sulle nave Io Da dove, da dove Andre No, no, no Era Da direzione Prison Un in due Stanno cucinando da sopra Da giù il mio team Traccato Uno Non tra No, due Due Tre Tre È il mondo qua Craccato Craccato Una Mamma mia Ma perché Una Brava Bravissima Entra da sotto Da sotto di voi Grande Andrea Tu Siamo Serio Cazzo Stefano Tu Sei in ora Uno Non io Ah La play Non ti va Devi fare qualche Aggiornamento Probabilmente Raga Fatelo E V Sono I saldi No Io I saldi Andiamo Andiamo Pusha Pusha Machina Raga Da me Aiuto Due A terra Vado Di Da dietro Da dietro Terra Terra No 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 Cazzo Non è un colpo Raga morite Dovete morire Quando si pulite a terra Non dovete rimanere Tra più tempo a terra Per aspettare il resto Raga Perché così si muore No Ciao Italiani Era piaciuta la partita Ma chi è che era a terra Eri tu o era quello lì L'altro forse Io Io ero a terra Ma L'altro è andato a terra Non lo so No C'era uno che è stato a terra Tipo da mezz'ora Sarebbe già risponato Era davanti a me Ho atterrato Quello che l'aveva Messo a terra E poi Mi hanno sparato E sono finito a terra Pure io Allora ragazzi Se c'è qualche sub Che vuole giocare Ci sono posti Non mi ricordo Chi doveva entrare Quanti Mi sa che non riesce E c'era anche Un altro ragazzo Ma l'ultima partita Allora Melania ma quindi Sei tornata Nella tua patria Sei tornata In Sardinia Dai Andrei Andrei Il nostro momento Per essere pro player Comunque devo aumentare La sensibilità Col cecchino Ragazzi Ora l'aumento Metto 910 Dai lo faccio Lo faccio ragazzi Io mi trovo bene Io mi trovo bene col pad Adesso Non riesci ad entrare No Ragazzi Vuole una challenge Allora Dai Quante kill faccio Allora faccio cose Regalo 10 euro Regalo 10 euro Paypal Faccio una challenge A chi indovina Quante kill faccio Andiamo console Uno sotto Allora Bello Ragazzi Gente sotto terra C'è gente sotto tetto 23 14 Va bene Quentin Ci provo Te lo dico Allora Mi è scattato La palla È uno che mi insegue È arrivato un nemico Attenzione in alto Guarda Guarda Me la stanno Prendono il balone Che scempio Che scempio proprio Ma raga mi vedono Avete piastrine Per caso Bello Parti Di Mi 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 Non Mi 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 io ho la stanche cosa migliore ma 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 hai ragione a dire ma anche la vede come come possibile ragami sapete dei piani un po sopra sul petto uno due due no raga quattro quattordici mi avvia qui due anni fa una riunione di natale sembra una riunione di natale mia zia cavolo lo sapevo che era lei allora filippo dice dieci comunque ma meno quattordici ventitré venticinque ventisei stai esagerando te lo dico andrea buonasera ciao buonasera 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 vado all'oggi via lì c'è uno c'è uno ma c'è uno si è buttato cecchina sono io cecchina un progetto fatti accettinate simpaticissimo raga io ho fatto risponare ma erano tossi questi due loadout no 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 ok opportunità per fare la differenza no 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 hanzo vittima oh ma quella da laggiù mai non so da vita tua brunner londi Era instabile te lo giuro che se non era per quello Andrea comunque in questo caso devi morire Saresti già risponato E' inutile aspettare tutto questo No Lodi bro E poi ci vado io perché io non voglio il Lodi Loro no Loro no perché devono tenere la vita per me Ma io si cazzo io ci devo andare a Lodi In effetti hai detto no Lodi poi ci sei andata Ma io posso cazzo Capite cosa intendo Voi no ma io si Io vado a Lodi Basta ma sai come ci vado Devo un'altra entrata raga Cazzo no Lodi no Lodi no Lodi Me l'avevano detto pure a casa No Questo è bestemmiato Questo è bestemmiato Non lo so Andre non venire a Lodi Andre non Lodi te lo dico C'è No Lodi Non sono andato Lodi stavolta Sono sceso sul tetto di preso No bro è you dead you dead Eh bro non Lodi Ha fatto 12 kill 13 Allora vieni Brother Gaetano vieni subito a giocare Skin Oh se volete c'è un po' tutto Simo come sei tutto bene Andiamo in via raga Cambiamo adesso Ma in che senso Flavio In che senso ci scambiamo i contatti Per cosa Eh c'è gente Facciamo il loadout Raga non manca molto Ce l'abbiamo i soldi Andiamo di fronte però Dagon Dai Nico Vieni vieni Che c'è ci sono i posti C'è un posto Trovate Trovate Venite ragazzi Vi lascio soldini Flavio ma la sub No Flavio Ciao Luciano Buonasera Alessandro Grazie per il like Raga WFB Money money Bishop money Tieni No non compra le piazze Fai WFB Tieni Punisher Tieni Tieni Prendete voi Grande Ce l'ho Voglio pushare Qualsiasi cosa Cammini Pusha Pusha Andiamo Andiamo Prison Sono felice Ora tipo Ora prendo Una bella Sberla Proprio Ricognizione Grazie Ma non ho paura Di questo No Mi hai detto Prison Ce n'è uno qua sopra Raga Ratturgete quell'area Immediatamente Vabbè vado su Prison Raga Autonomia U a via Saurita Rientro alla base Contratto completato Vabbè vaffanculo Vabbè vaffanculo va Entro da qua Ma perché è meglio Raga sopra da me Su Facebook Così ci possiamo sentire Su Facebook No Flavio Io sono già fidanzato Prendo io Tor Buonasera Francesco Come stai Ciao Luciano Raga su Prison Non c'è gente Sopra Prison Andiamo tutti insieme Raga Eh no Siamo impegnatissimi Con Sopra C'è uno Andrei sei l'ultimo Eh Dispiace ma Dispiace ma E' così Allora vediamo se c'è il Nico Ma non penso sia già online No infatti ma non lo vedo Nico dimmi tu Quando sei online perché Fammi sapere Fammi sapere Scusami Dove sei tu che è andata via la corrente Per la luce che diluvia Perché qui no Perché qui no Qui c'è bel tempo Per la skin Troppo visibile La tua Eh ma non è che questa non sia visibile Mi bersagliano Ma questo è peggio Vabbè a me Ciao Kevin Buonasera Ma quanti soldi ho fatto Su questo gioco Luciano Allora io gioco Come adesso Praticamente sto giocando Con i sostenitori Sostenitori che vuol dire 5 euro al mese Quindi sono persone che supportano la pagina Vabbè non solo Cioè nel senso La pagina Lo streamer E avete la possibilità di giocare ogni giorno con noi Quasi ogni giorno Abbiamo un gruppo telegram privato Proprio per i sostenitori Anche un gruppo facebook Dove ci sentiamo ogni giorno Per giocare Per aggiornarci Insomma Una cosa un po' più privata Quindi bisogna diventare support Ogni giorno Roberta Ti chiama a casa Ti chiama a casa E ti dico guarda Scusa dai Vieni Al giù dal letto E vieni a giocare Esatto Anche alle 4 di notte Phenomeno La colpa è di Andrea Andiamo al 2 No andiamo contro Raga Che è il bio No Contro Contro Veramente Franci Mamma mia Domani giochiamo E' un po' più Pagano. ora che possiamo fare il lodi no andate un po di uscita di gioco quanta robin esce un po l'audio dei tuoi del tuo gioco abbiamo 6.000 un paio di b non ci sono alla tende alla stazione c'è la ragazza l'opera di rifornimento trovati trovati abbassa il microfono andrea perché non si sente va bene quando parli tu andiamo 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 living living sopra a nonna a nonna c'è un coltivo mamma mia guante a terra uno raga li faccio tutti te lo giuro no raga bravi bravi ma ho la faccia di una che ti fa con la squadra di calcio che ho sparato la mattina la sera bravi un pezzo qui tra il solito guardate guardate no, con due qua eh, tutti botto lunghezze oh vaffanculo, ma che sei scemonito? no 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 che rinforzi sono in arrivo one shot ragazzi qua c'è il panico stiamo giocando troppo da soli cioè io mi sento sola veniamo a nonna ragazzi sono un sacco di kill un sacco di kill io non lo so mi sento ah ah hai detto due tiertoli vabbè tutto è fatti guarda che la tua attacca 3-5 nell'area operativa I rinforzi sono in arrivo Ma Roberta fai schifo Dai vai a Roberta Ah erano due ok Sono due due Attenti eh Mi auto offendo così Allora amari che io non so di che problema hai Però va bene Andrea come te la passi Ah è bene Raga è bravo Vado all'odout Venite anche voi guys Andrà con l'oppo Questa è la raga era più ampia Mi mando avanti Pusciano sempre in due Cioè sempre in due attaccati proprio Andrà come va la vita Ti buscano eh Ti buscano eh Ti buscano raga Guardate le scande Andrà qua Perdo Va sotto Piastra Piastra sì che c'è la piastra Ragazzi Non ci credo Perfetto Ragazzi Vi Vi merda bravo sei morto e fecchinato questo ti meriti andrei devi abbassa l'audio perché serve quello che dico quando ci fanno la stanno campionato ma è morto raga grande bro sei il miglior player che abbia mai visto dopo di me lo giuro raga dobbiamo andare prison andiamo tutti sopra prison no non sopra sotto prison come ti chiede su facebook in casa tre colpi che ci faccio 50 di medica segnalata se ne la se ne la a a a a a a a Io vi vorrei restare Ma io rischio È un nemico quello? 12 in vita Questa è quanti sono 12 in vita, André? Me la frega Sono tutti sul tetto, capito? Aspetta qui Che fenomeno Non c'era quanti ne erano, eh, mamma mia Peccato, minchia, se me li pecchiamo tutti a questi Che giocata che hai fatto Peccato GG Allora, Nico Come on Nico, io non ti vedo online, mannaggia Raga, peccato Vi giuro che se avessi avuto la maschera L'adrenalina O qualsiasi cosa Per poter andare un attimo fuori quel contesto E poi Piastrarmi e rientrare O perlomeno Andarmene via, quindi Peccato Grazie Grazie Giovanni Tu Che prima pure le stelline hai mandato Grazie mille Grazie mille Grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Control. Grazie a tutti. 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 Avanti, raga, living. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Quanto è? Quanto è? Quanto è? Grazie a tutti. 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 Raga, bisogno di voi, bisogno di voi. Arrivo. No. Eh, no. No, 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 no. Quanti? Qua, qua, un fortino, un fortino, un fortino, un fortino. No, no, non vedi, non vedi. Eh, dai, non ti ha sparato il raggio. Ti ha sparato il raggio, ma non penso. Eh, non è l'unità, ma ti ho trovato. Mannaggia. Buonasera, ma trebbioni. Ciao. No, 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 no. Terra, 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 terra. Dove? Due secondo, c'è un altro che sta arrestando. Ost. Cos'è tu, sayagardo? Comparadamente, raga? Su cazzo il mio cecchino. Esplodiamo più testo. No, ancora. No, no, no canım. Robby Raga ma dove cazzo è il mio cecchino Qua in tutta questa cosa Avete visto un car? Ah no sono morta sotto io Eh questo qua è Eh dammi subito il mio car Come ti sei fermo e dammi subito la mia arma guerra Io ho conosciuto Dammi subito sotto quello che hai Prenditi questo Oh c'è un nemico però questo non me lo faccio scappare No lo faccio scappare A Nova Prison Nova Robby Dove andiamo? Ti è a posto? Si Ragazzi allora vediamo un po' Io buttaremo localizzante Innanzitutto per vedere chi ci sta Dove? Ce ne ho due Oh sotto raga Eh ne 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 Eh prison prison Full team Dammi 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 Vai via Andrea se puoi Eh Destinazione marcata No no Peccato Ragazzi avete capito che gameplay c'è uscito? C'è avevo 18 kill ma non me ne so accorta Di avere 18 kill Ve lo giuro non me ne so accorta per niente E' stato un game E' visto Quentin? Ah lo stavi vedendo? Beh Beh Ve lo giuro mi sento satana Basta da oggi in poi non faccio più la mattina ragazzi La mattina la fa Martina Perché ovviamente si chiama Martina Io faccio la sera Ehi vincemo ci emozioniamo Finiamo nel reparto Adulti qui eh Fabio buonanotte Mamma mia Fai girare la testa I miei complimenti Luciano sono contenta che la prima volta che ci guardi Infatti vedo che non sei manco follower O perlomeno non ti arrivano le notifiche della nostra live Quindi io ti consiglio di seguirci O di scrivere in chat Punto esclamativo notify Comunque c'è Quentin che guarda e sta sempre zitto Non commenta mai Romulo Oh my god Barbara un fire Hai visto Fili? Pazzesco raga Ha fatto un game bellissimo Sono troppo fiera di me stessa Brava Roberta Brava Raga ci siete tutti? O qualcuno è crashato? Sì sì No no ci sono Nico non c'è crashato lo sapevo Eh sì torniamo in l'occhio Ah ma ci siete tutti? Sei bastardi Vabbiamo con parlare più Un attimo Ci sono ci sono Cambio una sensazione Ah ricorda Oh Fa girare la testa Gabriel Buonasera Ah sono contenta Puoi togliere un attimo Sì mi piace Mi piace quando Non si iscrive perché No no Luciano io lo dico Perché così le nostre live ti compaiono Capito? Perché vedo che non sei follower né niente Quindi poi non ti arriva ancora la notifica Sniper di pesca Mi piace quando non si iscrive perché il gameplay è così tipo Non dico bello ma che magari ti prende Non riesci manca a commentare che ti guardi il gameplay Grazie Franci Posso andare? Che giocata che ho fatto Peccato che non sto registrando E comunque sono senza VPN Quentin Sto giocando senza VPN Quindi ho fatto 18 kill Di sera Senza VPN Ma dove la trovi una streamer così? Gabriel come stai? Tutto bene? Mi racconti? No In offerta Lidl Roby No Andrea buonasera Di che nel piede mi ero fatta male Ma va meglio Ma Quentin Io non uso la VPN infatti Per trovare le lobby bot A me la VPN Io l'ho sempre detto Io non l'ho mai nascosta Il primo giorno che la uso Io quando la uso È per non trovare i cheater Ragazzi che ci credete o no Funziona Cioè non so che ci Io no Cioè vedete come li trovate i cheater Mai Tanto il fatto è che anche per le lobby VPN Ragazzi trovano lobby di fenomeni Quindi è singolo L'importante è non trovare Anzi L'unica cosa che mi scoccia è beccare gli italiani cafoni Senza VPN Oddio Quentin Di rivedere le lobby di stamattina Ho fatto singolo Non so se c'eri Ho fatto tipo un'ora e mezza di singolo Ho fatto over 15 kill Quindi sopra le 15 kill Nel game Ho fatto due win di fila Con 19 e 22 kill 22-23 Non lo so Che si Però le lobby erano 08 Capito 08 09 Singolo Un fortuna Uno sotto Sì sì Bro No ragazzi Yo a terra Sotta Blocky Sotto sotto Lì restano Ultimo sotto Quattro sotto Quattro Bravissimi Bravissimi eh questo non arriva da me bella raga bella bella ancora sotto grande uno qua robin mi stai facendo tutto no da vera raga uno qui eh ragazzi tutti sotto nico vai via scappa fai qualcosa ciao luciano alla prossima allora direi che è normale fare allo start di 200 di danno una kill dietro nico dietro eh lo so lo so è che c'ho vai che se lo spai che cazzotti può darti perchè ti ha offeso il bot ma finisci eh ma che diavolo eh ma che diavolo è una casca di spazio andate a prenderlo entro per la squadra in dietro distruttatore a aver messo raga qua dal carrello del carrello è una casca di spazio che rinforzi sono in arrivo eh tenni hanno attivato il cosa raga quello che spotta l'obiettivo aggiornato facciamo i lodi non abbiamo lasciato ragazzi uno qua se avrò quando non è il tetto di casa grande mai mi sono rotta tre quarti di fagiolo cioè insomma mi devo becca sempre quello senza piastre che mi ha rubato tutte le kill in cui li ho messi qua andre sopra eh quel team sopra e sotto sono due sopra sono due sotto andre guarda qui dietro due sopra due sotto è un cielo ragazzi io vado a nova piccola ok forse non fai l'odd raga e la vero giuro ce la ce la non ci credo davide che si combinando davide soldi ragazzo di lasciare perdere quello sopra ragazzi ma città città lo giuro a terra sul tetto vado la terra sul tetto sopra di voi raga io pusciati con me davanti un altro sotto ragazzo sotto si si sta facendo il giro sotto si davide grazie gente si ragazzi gente qua avete per caso colpi cecchino ragazzi no robin che c'è una piastra no colpi cecchino no no i colpi grazie parati su mi chiede che sto sparando ma questo è comunque senza dai di fronte sono sei non ti senti a facciare non ti senti a facciare Eh vabbè, sono safe anch'io raga Grazie Andra Faccio il rianimatore di protezione Oh ce n'è altro No vabbè, la chemical Ah già Eh ma questo chi è? Ah odio raga Eh Eh della chemical c'è un full team Quindi non conviene raga perché stanno primando Davide io gioco con i sostenitori della pagina Ciao Miki, buonanotte Prendi contratti, prendi, prendi bravo No c'è già... No no Andrea non ti mettere così, sei un punto fisso Saltella, sei un punto fermo Cecchina no Fai il giro da sopra Non faccio fare il giro da sopra proprio Vai in safe, che cazzo te ne frega Vabbè lo passa di qua Io vado a bio Eh occhi che c'è un cieco e Robby Siamo a biolando Un'altra Andiamo a bio Vabbè abbiamo fatto un'altra team Dall'anno so dove Dai Ah ok no Subbia ragazze ne sono due E anche tre Sì sì c'è il panico ora siamo già in quattro comunque sapete che possiamo fare raga lutare dove sta nico vado dai con che c'è lo sciacallo ma non posso perdere un pipe ma sono due ma non c'è niente che la blitz rispetto alla wall gun è letale ok va bene andrea vogliamo il clutch te lo dico vogliamo il clutch cosa sarebbe questo clutch tu contro tutti tu nel andra ragazzi salvador leon scrive sa se è possibile fare un po di lavoro ma non l'ho capito bene grazie bella vita non sto capendo te salvadore salvador scusami no non sto camperando benissimo dove sei fa paura andrea ruba di tutto quello che aveva che non me la fa prendere guarda la finestra non ci sono coratti arrivano arrivano che la maschera ricarica ricarica più che altro sai perché non avevi via l'uscita anche se avevi la maschera innanzitutto la maschera non si mette se tu miri infatti vedi che non ti sei messa eh sì infatti praticamente se tu miri con l'arma la maschera non si indossa e muori quindi bisogna non mirare appunto primo così non ti sentivano manco che tossivi e poi non avevi via l'uscita perché come facevi c'è tre beh meno che erano tutti one shot bella Enzo grazie per il like Andrea buonasera come state? voi che assalto usate ragazzi? beh il chilo bello 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 Ok Ok Stiamo Allora Ragazzi ma qualcuno non vuole fare ma challenge Mi piacciono franci le song? Non ti credo Non ti credo Non ti credo Non ti credo Vai 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 Ragazzi se mi lasciano i soldi faccio il loadout Stai arrivando un nemico Attenzione in alto Soldi soldi raga soldi Un attimo che ho gente qua Roby Non ne ho di soldi Ragazzi vediamo nico qua One shot one shot uno Per stare stando l'ultimo piano Andiamo andiamo raga andiamo andiamo Davanti le scale Bravo bravo Arriva arriva purisher Ragazzi questo mi ha detto bravo 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 Fai schifo vai Uno one shot uno Ragazzi Punti schemativo clip Per quello che mi ha detto questo ragazzo Perchè te lo giuro mi sono morta Prima ha detto bravo bravo Fai schifo Eccolo Fatto Fatto Gli altri sotto vero? Che gente sotto Raga facciamo il loadout sotto per favore lo faccio io Vai 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 Bravi Fai il loadout Ok Non ci basta no? Ok Andrei ti serve una piastra? Se vuoi te la lascio Andrei 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 Non sentiamo Abbiamo perduto il compagno Usciamo a tende Vai vai Roby Eccolo 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 Abbiamo notato Abbiamo notato Abbiamo notato Mamma mia Sopra Genta Guente sopra forse Questo è pulito Uno che arriva da me, dalle scale Primo piano No vabbè Questo ha buttato la play Da dove bro? C'è proprio Sono lontano A te viene esistente A te viene esistente Puscia questo Raga sopra, sopra due Vieni, vieni, vieni Sopra Panico Ragazzo, sopra, sopra Vai, vai, sta arrivando Oddio ragazzi, li facciamo tutti Vai, vai, vai Da nonna Da nonna, occhio Non è un buon fight Non è uscita, non è uscita Abbiamo poche informazioni ragazzi per poter uscire Ci vanno da nonna Non avete capito? C'è uno qua sul tetto C'è uno qua sul tetto È uno qua sotto Sono sotto raga, sono sotto Sopra, sopra uno Sopra il tetto Sopra il tetto ragazzi Vado io, vado io Non sopra da noi Mi sparano Oh mio dio Wow Roby qua, agente Rischio, rischio Fia Sopra il tetto Rischio, ho fatto Rischio, perfetto Raga andiamo sotto lo shop per favore Compriamo le piastre Vieni vieni compriamole Vieni vieni lo shop Vai comprile se poi dammene una Quello che vuoi Ok l'ho trovato un po' di piastre Info nico Eh sono tutti qua davanti a me raga Full team Sono sotto Robby vieni vieni No one shot Un altro qua C'è altra gente raga altra gente Sì sì Mi piastro arriva Il gente Raga perché non prendiamo il ballone non ce l'andiamo su prison Oppure una giocata stupida Ma c'è uno sul tetto qua L'ho fatto l'ho fatto ok prendiamo il ballone che dite raga abbiamo i soldi pure un bambino vado prima io vedo il baciano piastra raga maschera che non ce l'ha io salirei di fatto saliamo con te aspetta oddio mio non salire non salire non salire non salire te lo sconsiglio non salire merda meglio rimanere qua in safe via con l'attacco aereo richiesta ricevuta qua sotto no 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 tutti i morti guardi tagli ti prego c'è fai il panico amico in attacco nell'assi ultimi cinque forza resti solo due sopravvivi a tutti i coppi ok 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 Sì, 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 sì. ah ah Peccato mi sono ingastrata con quella cosa Una stronza Una piccola stronza Ragazzi comunque vi ricordo Che abbiamo giocato tutto il tempo Terzetti contro quartetti Perché Andrea era crashato Cioè vi rendete conto Se c'era Andrea pure Eh Andrea? Come lo dici? Vabbè ragazzi Di questa partita Nice Eh Nico 10 Mamma mia 8000 di danni Ma quanto ho sparato Eh Andrea ti invito Bella Joseph Daniele Grazie per il like Ok vieni Ti invito Che game raga Tremente Ragazzi io sto usando Ah ok Alla prossima Ah ok ciao caro Alla prossima Buonanotte Ciao 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 Ragazzi ho da fare il plin plin Arrivo subito Ciao 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 Grazie a tutti. 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 Ma non avevo l'inizio che era un amico, cazzo. Raga, a tetto sono tre. Ciao, Gianni. Grazie a tutti. I rinforzi sono in arrivo. I rinforzi sono in arrivo. L'ultimo piano grande. No. Ok, Roby, c'è uno top. I rinforzi sono in arrivo. Ma no, cazzo. Ciao, cazzo. Ma vaffa. Eh, sì, siamo in trisone. Ciao, rebel. Buonanotte a te, caro. che mi racconti? Che mi racconti? Andrea, tutto a posto? ragazzi. Ragazzi, vado a questo sciacallo. Ti seguo. Prendogli, prendogli i rabbi. Prendogli i rabbi, prendogli. Occhio, occhio. è arrivato un nemico. Attenzione ai labbi. Ragazzi, i soldi per i loddi. Tenete. Qui c'è denaro. Tieni, Andrea, le piastre. Non mancano soldi, raga. Soldi uno shop, ragazzi. L'auto di equipaggiamento in arrivo. L'auto di equipaggiamento per voi. Andiamo a chemica, che c'erano più. No, c'è uno qua, c'è uno qua, raga. Sta il balloon. Minchia. Molto. Non si attaccano. Fa in c**o una cosa, no. eh che cazzo stai qua stai qua non fa scherziamo niente 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 un po' alleato appena rientrato sta arrivando un nemico fanculo è un po il tema che è successo andrà niente sono attaccato senza gambe andrea raga canica c'è un cultivo ok camberà 10 secondi 15 ti conviene morire ali nessuno potrà messarti ciao daniele occhi a robic è pieno davanti anche qua no niente dai dai arrivo fatto l'arriva un altro non hai capito, ho facendo 20 kg game, non so che mi hai preso tornano questi robis, ci posso veder anche io io ho una 3080 ti, ragazzi gente da voi, si si, dove erano prima robbie una terra da prendere occhio non mi sta pensando è napoletana non è la maschera, what? non avere la maschera è orribile, non è maschera, né piastre, né magna, né piedi, let's go sopra raga, sopra di noi non c'è neanche le mie armi che scivolo ritorno non è più disponibile oddio quattro sono, raga quattro che viene che viene che viene una stazione medica non li voglio i soldi non ne voglio non ne voglio le mie armi non ho le palle guarda avevo poca vita avevo poca vita proprio dovevo spararmi l'adrenalina buonasera Giuseppe ciao Frankie grazie per le 50 e chiù buonasera come va? qualcuno è crashato vediamo un po' io no Andrea? non eravamo entra anche prima ok buonasera guys comunque il car devo ancora forse devo aumentare ancora di più la sensibilità l'ho aumentata ma secondo me un po' di più buonasera Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ragazzi mancano 150 stelle a 1k di stelle fatte stasera. Francky, te la troppo subito. Anche così non va bene però, perché mo ne mancano 900 e 2k. Grazie a tutti. Grazie. Grazie per il 200, gentilissimo. Ma siamo ancora in tre. Sì, andiamo. Palle, palle. Andrea, non ti preoccupare, noi siamo fortissimi, cazzo. Gli alleati faccini possono rischierarsi finché i pazienti saranno guadagnate punti per far ritornare presto. Non ci credo. Non è serpente in filo di strafaccia. Non è serpente in filo di strafaccia. Giuro. Giuro. Cazza piastre, guys. Cazzo, uno sotto. Cazzo, uno sotto, uno shotissimo. Giuro, giuro, giuro. Questa cosa è che è più bravo. Fatto. Bravissimi, bravi. Raga, fatelo d'auto, subito, subito. Fatelo sotto. Tutti hanno l'ultima piano grande. Mi entrare. Andrere via, andrere via 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 via, scappa, scappa sotto, scappa sotto. Sto' entrando da basso. Ok, io ti secondi sono. Figa la nave c'è gente. No e no, per ragazzo. Dove ho ricaricato. Frank, ma tu dove sei? Vado a tende. Membro della squadra in riesco. Il gas mi raggiunge. C'è gente, Nico? No, qua no, però ce la taglia in casa. Vabbè, ce li facciamo tutti, Nico. Guarda, ho buttato il fuoco dentro la casa, qua. Non c'è una mano, tu stai. Faccio la mano, tu stai. Oh, buf. Sale uno. Sì. taglia così di qua di qua un attimo rovis sì sì e qua c'è un botto di gente un altro a terra a di napoli e simone sono tre simone buonasera poi tornare in campo stavolta non sbagliare sono due qua no oh ma hanno fatto ragà no così no però simone buonasera come il log di raga il tabine ti vado te lo dico te lo dite vai 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 ok c'era mina andiamo contro da fare un po di piastre che si faccia una via una piastra la gente sopra di noi raga piastre nico per farle ma lo devo far questo cioè andremo fare le piastre lasciarmi i soldi mi faccio le piastre e le altre ok raga io andrei verso tende verso prison scusate c'è uno contro il piccolo anche uno da mare uno l'ho fatto raga dove andrà ma sono qua però sono sopra sono sopra ok Robby sopra sopra mina no raga destra come esce a destra qui sotto allo shop viene da voi un altro team un altro team raga due sotto vai via nico vai via hai il tempo hai il tempo tranquillo tanto lo resta ancora sono sotto dai facciamoci l'ultimo raga poi stacchiamo che siamo vecchi ok abbiamo una certa età ultima e basta anche se no poi nico non ce la fa più che odio quelli che sparano in alto pur di farsi da chi l'ha da Simone io sono una di quelle però col cecchino con l'assalto è inutile capito col cecchino mi piace proprio divertirmi magari mi esce solo la clip della vita invece con l'assalto non sono fissata ecco dipende pure come sto comunque con l'assalto di me chanagò saraga arrivo grazie a tutti 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 sta arrivando un nemico attenzione in alto basta scherzo iniziamo a fare abbattanza 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 raga eccomi scusate ma il gatto che non sta bene il mio gatto mi sta per lasciare iniziamo a fare abbattanza andrea facciamo il load di troppo melissi si troppo poi non c'è nessuno raga riusci a traversare la mappa si si adesso provo ok prova andrà vieni che mi andrà robbie ah però c'è gente sopra facciamo un giro l'arve di qua un giro l'arve di qua facciamo un giro l'arve di qua raga c'è il velo l'arve di qua vedete ma nei capelli vai vai arriva uno su da metano raga tre terra vi prego vi prego due terra due terra sotto sotto vi fate è una terra matteo tu sei pazzo non ci credo raga sotto nonna ce ne vedo due eh lo so lo so c'era uno grazie Matteo ma io non lo so non lo so tu 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 sei pazzo grazie per le 500 ragazza non ci vediamo ma vedete stame occhio robbie ancora qua occhio robbie ancora qua occhio robbie ancora qua eh uno scamperato lì non ho fatto io eh ah 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 ci riesco a me qua io ah 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 arriva uno arriva uno da dove andrà scopriamo nuovi giocattoli mi ha sparato mi ha sparato a terra top 9 aiuto a terra top 9 aiuto no dobbiamo arrivano andate riporto un 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 Bravissimo Occhio Andrea non riesco a arrestarti C'è troppo fire qua Aspettiamo un attimo Matteo dimmi qualcosa Dimmi perché Grazie per il reciprocente Grazie di cuore Sei pazzo Sì sì A terra uno Si è suicidato Trovo il Lodi Il Lodi è libero da me Devi stare attento sopra Raga ma quanti sono Ma c'è un ultimo Non lo sapevo Ma che è successo lì Ande Matteo Io gioco spesso Se vuoi giocare con me Praticamente io gioco Con i sostenitori della pagina Abbiamo anche un gruppo telegram privato Dove Ci sentiamo sempre Ogni giorno Occhio Andrea che c'era gente qua Raga sotto di voi c'è tanta gente E' un full team Non giuro Oddio Oddio Sta arrivando un nemico Attenzione in alto I rinforzi sono in arrivo Mamma mia E' morto E' morto Ma com'è possibile Che poi è morto Ma non si preoccupare Ma non l'oddio Sto giocando con Andrea Che ha 0,20 di KD E piano piano Ne faremo arrivare a 1 Col cecchino Col cecchino Te li fai tutti Mamma mia Eh si Non c'ho colpi Sotto Sotto c'era il rifornimento Nico attenti Tinocca Madonna La fob La fob Perché mi faccio anche le piastre qua Occhio aperti La destra di ritorno sta per chiudersi Sta arrivando un nemico Attenzione in alto Che mi armi Non lo facciamo per spagare No qua No va No vieni da me Andrea Vieni da me Andrea Facciamo il rifornimento E facciamo il loadout C'è gente qua Aiutando una raga Se volete Eh non ce lo so Niente Non ce lo so Ma vaffanculo Che piano Sono tutti verso contro La cassa di scorte Andati a prenderti Ma sul tetto non c'è nessuno Scusate Oh guarda che la vieni sul tetto Non c'è nessuno C'è nessuno C'è nessuno Non ho piastra No no Sono due Vado sotto No full team Full team Ultimo raga Ho sceso di andare sotto Ma che è questo? Ma dove? No vabbè Andrea dove sei? Dove ti trovi? Ok vieni da me Vieni vieni C'è un camper qua Te lo giuro Piastre non ne abbiamo Contratto scaduto Completate il prossimo Che sbatti Abbiamo il resto Vado io al volo Ok che sono tutti sul tetto Robby Ok c'è Posso farcela Io posso rimanere Poi il gas Non riesco neanche a scendere Non riesco neanche a scendere Non riesco a scendere No Get back Get back guarda che sono bello bollito eh vabbè oh bei game che ci siamo fatti mamma mia non ci rendiamo conto no? andrei comunque non parla a piedi vai da una certa e dice basta ragazzi o anche ragazzi in chat io vi saluto mi sono stra divertita stasera infatti peccato che non ho registrato ma ho fatto tante di quei bei game mi sono divertita oh raga vi saluto ci vediamo io non streamo domattina ci sono domani sera domani poverita sera quindi chi vuole giocare ci vediamo domani un bacione alla grande ciao Daniele bella Quentin ciao Simo ciao Roby a te alla prossima ciao Andrea Nico un bacione ciao ciao ragazzi a te Frankie ma da quanto tempo sono senza webcam cioè ho fatto tutto il gameplay senza webcam la coppa la coppa comunque è di Frankie è di Quentin non so perché sento che il mio carro è lento ma ho il gioco di prestigio ecco perché è lento ragazzi adesso è finita per tutti adesso sarà molto più veloce hola Giuse benvenuto un bacione raga guarda che sono stanchissima ovviamente è cupa mia sempre ciao buonanotte grazie per la compagnia a domani grazie per la compagnia 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.